E' un'epoli, un'epoli che vuole, vincere noi Come un punto di partenza e non un punto di arrivo Ovviamente ci sono qualche giocatore esperto Attualmente sono 21 perché ne manca due Anzi 19, ne manca due Arriveranno mercoledì per problemi fisici E uno è Musaci e uno è Eder Ci sono otto giocatori in vendita che arriveranno mercoledì Ci auguriamo di cederli tutti Non per motivi tecnici ma perché Hanno uno stipendio che la società non si può più permettere Hanno ovviamente una valutazione E per loro si apre delle opportunità professionali migliori rispetto a noi Però se vengono venduti tutti bene Se ne vengono venduti cinque e tre rimangono Ci daranno mano nel prossimo campionato E questo Presidente è un grande vanto per l'Empoli Visto anche che arriviamo da una settimana In cui sono scomparse società importanti come Pisa e Lavellino L'Empoli ha insere B e ha una situazione tranquilla, salda insomma Sì, è una situazione piuttosto tranquilla Che sconta però di un'annata all'anno scorso Deficitaria sotto l'aspetto economico Abbiamo sbagliato non tanto l'aspetto tecnico Perché poi alla fine siamo arrivati a un punto Da chi è stato promosso in Serie A Quanto il discorso diciamo Prettamente finanziario perché Abbiamo postato su giocatori Molto spesso importanti Per la categoria Magari reduci dalle esperienze di Serie A Che non hanno dato quello che ci aspettavamo Tant'è che abbiamo detto che Spesso nella delusione che Quest'anno il prossimo avremmo ritrovato Riprovato a fare L'Empoli È successo così Le certezze sono fatte da 7-8 elementi Che l'anno scorso erano titolari Nell'ultimo 12 gare di campionato E hanno fatto vedere Di essere in grado di poter fare bene In un campionato anche importante Con la Serie B Integrati da Eder Che ci auguriamo rimanga E magari da qualche elemento Che ancora dovrà arrivare Nel momento che vedremo Accedere qualcuno di questi 8 aggiatori Ecco Fabrizio Lempoli Spesso e volentieri Ha fatto bene Anzi Ha fatto sempre bene Quando non è mai stata messa Nella griglia di partenza Tra le favorite Probabilmente Anche quest'anno Potrebbe essere così Ma insomma Sognare è lecito per tutti Magari Appellarsi Anche alla nostra tradizione Appellarsi alle nostre esperienze E logico Dobbiamo essere fiduciosi L'ambiente ci aiuta molto Perché i tifosi Come avete visto oggi C'è un entusiasmo Come se si fosse vinto il campionato Condividono questa scelta Perché si sono formati Insieme a noi Questa cultura sportiva Cioè Sicuramente Il fatto di sognare la Serie A L'anno scorso di questi tempi Li faceva piacere Ma altrettanto Li fa piacere Fare di nuovo Lempoli Basandoci su Su giovani Che si giocano Tanto del loro futuro In questa stagione Un'ultimissima domanda Il campionato di Serie B Quest'anno inizierà molto presto Addirittura il 22 d'agosto È giusto giocare Le prime partite Alle 20 e 30 Ipotizzavo Non lo sapevo Sapevo che la Serie A Iniziava alle 20 e 45 Quindi te mi dici Che inizia alle 20 e 30 Per cui insomma È una bella cosa Per motivi televisivi Sky magari ci darà Di nuovo la solita visibilità A svantaggio Dire la Rai Che non potrà fare Il novantesimo minuto Però credo che In certe Diciamo Stagioni Sia impossibile Giocare alle 4 di pomeriggio Addirittura alle 3 di pomeriggio E poi magari Si consentirà ai tifosi Di andare al mare E tornare a versi la partita E poi sono giorni particolari In cui magari Un sabato Una domenica Insomma Essendo il 22 Un sabato Ci sarà la possibilità Di avere ancora più pubblica Allo Stato Ringraziamo il Presidente Caprizio Corso Grazie a tutti voi Per quello che ci avete dato E quello che ci darete Siamo in compagnia Del responsabile Dell'area comunicazione Dell'Empoli FC L'Avvocato Gianni Assirelli Allora con Gianni Assirelli Parliamo di questo evento Che quest'anno Collimerà con la nuova stagione L'Empoli fa 90 anni Cosa c'è in cantiere? 90 anni Nel senso ufficiale giudiziario Perché negli ultimi anni Molte squadre Hanno fatto finta Di avere 80 anni 90 anni 100 anni Ma in realtà Poche società in Toscana In Italia Possono vantare Un'attività interrotta Alla stessa società Da molto tempo Come l'Empoli Quindi è giusto festeggiare Perché è un risultato importante Non solo per la società Per il Presidente Ma anche per la città E per i tifosi Quindi ci stiamo lavorando I 90 anni Dovrebbero cadere Nell'agosto del 2010 Per cui inizieremo A parlare di questo Intorno a novembre Dicembre Perché vorremmo fare Appunto i primi sei mesi Del prossimo anno In questa direzione Ovviamente saranno Celebrazioni da Empoli Non vi aspettate Niente Né di carnevalesco Né di particolare Fu molto sopra E molto bello Di 80 anni Speriamo di replicare Cominciamo però Se mesi prima Perché la società ha deciso Di fare le divise In linea Con questi 90 anni Credo siano molto belle Le divise di quest'anno Siamo tornati Alla Alla vecchia divisa Un azzurro Molto Empoli Un bianco Che ricorda I tempi Del dopoguerra Abbiamo preso Proprio quel momento Un po' a modello Perché negli 80 anni Abbiamo preso Il 1920 E ora abbiamo preso Invece il 50 Perché L'Empoli Quell'anno Raggiunse Un struttosto straordinario Quello della serie B Sfiorò la serie A Aveva squadre Una squadra Molto empolesi Aveva stranieri Ecco Per chi ha vissuto Vigliani Perché si ricorda Un po' più di vicino Furono anni molto belli Molto esaltanti Allora abbiamo deciso Di prendere Proprio ispirazione Da questo Le maglie sono pronte Debutteranno Ovviamente Nelle prime partite E noi speriamo Di farle vedere Presto Insieme agli sponsor Purtroppo Abbiamo avuto Il problema Come tutti Che abbiamo finito La stagione In serie B 25 giorni fa Quindi in 25 giorni È difficile Un po' prendere Le misure Di tutto Però insomma Stiamo lavorando Speriamo di aver Fare un bel Un bel lavoro Sponsor tecnico ASICS confermato Giusto? Sì Lo sponsor tecnico ASICS confermato Siamo molto contenti Perché in serie B Credo solo noi Avremo L'ASICS Perché ha scelto Noi E ha lasciato Altre squadre Anche più titolate Siamo felici di questo Andremo Probabilmente Verso A riconfermare Anche dei due Sponsor Dello scorso anno E anche questo È una cosa Positiva E oggi Ci hanno dato Una bella Inezione di fiducia Ai tifosi Che sono Vosentanti Ci sono stati vicini L'ho detto Anche al direttore Ci hanno parlato Un secondo Ho detto Insomma Che secondo me Il messaggio È stato recepito Che l'Empoli Torna a fare l'Empoli E forse è quello Che i tifosi vogliono Allora ecco Noi ci avevamo pensato Un pochino prima Un po' con le maglie Un po' con gli Sponsor Un po' con queste iniziative E quindi Siamo arrivati tutto bene Insomma Alla fine Nessuno chiede nulla A nessuno Sennò come dicono I tifosi Come ha detto oggi Credo l'abbiano urlato E quindi Si sono fatti sentire Molto bene Che vogliono Il massimo impegno Quindi da parte di tutti Ci sarà L'impegno massimo Ecco Per finire Devo dire Che Direi L'anno di prova Che è stato fatto Con più nel tempo È stato molto Positivo Direi Al di là Delle Piorose aspettative Ho visto anche I contatti Che sono stati Molto Triplicati Ecco Poi la qualità È stata importante Avete eseguito L'Empoli Sempre In qualsiasi posto Ci avete dato Una bella mano Quindi io Mi auguro Ecco Che questa collaborazione Possa andare avanti Posso migliorare E possa Permettere Quindi ai tifosi Di essere più vicini A noi Non più vicini A loro Insomma Penso che Insomma Siamo partiti Col piede giusto Poi Avendo il campo Sarà quello A dire tutto Però Lo sai come la penso Perché insomma Da un po' Mi conosci Ecco Quando apro i giornali In questi giorni Ecco Mi tranquillizzo E dico Ecco Per lo meno Qui Grazie a Dio Insomma C'è una situazione Ben diversa Esistiamo Poi insomma Voi siete più a contatto Con i tifosi E ho sentito Parlando un po' Con voi Che Anche Insomma Sia i tifosi Più vicini A noi Di Uta Sia i tifosi Un po' Più calmi Ma insomma Sempre molto sanguini Hanno applaudito Questa scelta Del presidente Del direttore Quindi speriamo Speriamo bene Dai Ringraziamo Gianni Assirelli Grazie a tutti